ciao addicted oggi siamo in compagnia di una box di quelle che asos fa ogni mese non so se lo sapete già ma ogni mese ma sono una box che costa circa 13 euro e che è disponibile prima nel uk quindi in inghilterra e successivamente più o meno dopo un mese da noi quindi noi abbiamo alcune difficoltà purtroppo sia a prenderla subito perché finiscono immaginate un po per il prezzo immediatamente e sia perché appunto è successo per esempio l'ultima volta se siete nel gruppo lo sapete che purtroppo in italia è diventata disponibile quando ormai era già fuori produzione nel senso che ormai le scorte erano esaurite quindi può capitare però in questi giorni soprattutto di festa che qualcuna ritorni disponibile io sono riuscita a prendere questa che è quella dedicata ai capelli che se non mi sbaglio era del mese di ottobre addirittura e quindi poi a novembre è uscita in italia e che vi faccio vedere così vi faccio anche un po capire più o meno che range ha di prodotti ogni mese asos allora io come dico sempre lo chiamo asos non so se si chiami esos in realtà ma immagino di sì comunque allora queste sono le box go play face and body vedete naturalmente le indicazioni sono tutte in inglese c'è scritto che cosa contiene questa box che come vi ho appena detto è dedicata ai capelli io l'apro con voi anche se ho visto già il contenuto in sostanza nel sul sito naturalmente perché prima di comprare guardiamo sempre che cosa compriamo però mi interessava in particolar modo perché 12 euro per tutti questi prodotti 12,99 e 13 non è per niente caro guardate innanzitutto questo bel flaconcione da 350 ml di shampoo con di marca monday peta certified come vedete 0% sls tutti i tipi di capelli non è specificato però insomma guardate anche il dosatore molto pratico 350 ml poi comunque i prodotti sono sempre ottimi di questi guardate 13 euro direi che ci sta strasta camille rose coconut water è un live in live in detangling hair treatment un live in appunto con acqua di cocco che credo vada bene anche per i capelli mossi o diciamo ricci come i miei e si è infatti c'è scritto che non subito secco wash quindi se voi seguite come sto cercando di seguire anch'io il corli metodo il carli metodo questo può essere utile dice kiss goodbye to dry frizzy hands hello to gorgeous shiny curls quindi è proprio per capelli grassi e grassi scusatemi ricci nel caso in cui ne cerchiate una poi andiamo adoro questo marchio che non pronuncio per non creare casini per capelli da fini a medi e una maschera una maschera questa la voglio aprire per vedere finiamo un attimo la profumazione aspettate che faccio un guai buonissimissimo vedete questa è la maschera io dico way invece sto che si dice che si dice in un altro modo adesso non mi soviene perdonatemi io purtroppo sono un po un gran casino quando si tratta di marchi poi abbiamo rose gold oil di easy locks una protettore contro il calore da 50 ml e esattamente ma può essere usato leggo anche on dump or dry there quindi anche per mantenere lo styling c'è il pratico l'osatore anche qui lo vedete ecco qui vedete aspettate ecco qui ce l'ho fatta e guardate ragazzi credo che il costo sia molto più alto è di della cifra spesa poi c'è for longer string stronger air bar questo è un condizionato avvocato e un coconut per tutti i tipi di pelle io adoro i prodotti air bars noi abbiamo fatto anche una collaborazione con loro comunque di sconto che sinceramente vorrei rinnovare perché sono prodotti che mi piacciono tantissimo infine di invisibubbles invisibubble uno sprunchy molto molto carino guardate che bello che è per lo più secondo me estivo però può essere usato tutto l'anno guardate quanto è bellino questo scrunchy molto molto bello quindi ragazzi tutto questo a 13 euro immaginate come sparisca nell'arco di un anno secondo io comunque vi metto il link e vi invito sempre ad entrare nel nostro gruppo box addicted perché potete restare aggiornati proprio sulle uscite delle prossime box di esos visto che comunque abbiamo la fortuna di essere avvisati almeno in tempo quando usciranno nel nostro paese ecco qui quindi vi ricapitolo tutto quello che c'era c'è lo shampoo da 150 ml il balsamo che può essere usato anche come metodo con wash l'altro balsamo di air burst quello di web e lo scrunchy lo sprunchy anzi di invisibubble e l'olio per proteggere i capelli dall'asciugatura e anche per lo styling tutto questo a 13 euro quindi vi invito a entrare nel nostro gruppo box addicted per rimanere aggiornati sulle prossime box di asos io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito come sempre vi saluto e alla prossima ciao ragazze